Ne sono successe di cose ultimamente. Volevo sapere perché. Una giornalista con una morale. È sempre un passo avanti agli altri. Su tutto quello che succede lì, lei ha le fonti e va in stampa. Queste persone si muovono in fretta. Armi in esubero date ai Contas. Non puoi far finta di niente. Casse per munizioni. Queste degli M16, penso. Chi è l'uomo? Papà? Ellie, sto per fare un affare, uno bello grosso. Mio padre è nei guai. Ti raggiungo lì. No. Voglio trovare il bandolo della Matassa. Motivo della visita in Costa Rica? Vacanza. Sembra che aspetti qualcuno. Aspetto te. È tutto qui. Questa dannata operazione esploderà fra le mani di qualcuno. Occupatevene. Nessuno è ancora riuscito a capirlo. Noi sappiamo solamente che quando arriva lui è sempre alla fine e mai all'inizio. Dov'hai trovato questa roba? Come hai fatto a trovarmi? Dovendo scegliere una giornalista che consegna delle munizioni in Sud America. Chi meglio di lei? Veli di andare molto lontano? Esci dall'auto. Potevi partire e sparire per sempre. In un mondo perfetto faremo scelte perfette. Nel mondo reale facciamo scelte reali. In un mondo reale facciamo scelte. Nel mondo reale facciamo scelte. Grazie a tutti.